Musica Buongiorno, ci abbiamo fatto Allora, ammetto che questo video volevo girarlo stanotte Una volta che Patrick e Diego erano a letto Ma... non ci ho fatto Allora, vediamo se riesco domani Allora, questi sono gli orecchini Vita, morte e miracoli Avevo anticipato questo con un mini video Questo modellino qua non ero sicura dei colori Però mi hanno detto che è primaverile A me sembra un po' psicopatico, ma va bene No, psichedelico, mi diceva Claudia E il primo invece, quello che era nato Io non ce l'ho qua, sono in salotto Era quello rosso, azzurro e bianco Comunque Tra l'altro vi ricordo che sul mio shop Etsy C'è ancora il mega sconto del 50% Con l'acquisto di tre schemi Quindi approfittate Ora, passiamo subito a questo Materiale Rivoli da 14 mm Delica Rokai 15.0 Super Duo Rokai 11.0 E Rokai 8.0 Veramente, veramente pochi In realtà 4 Servono solo qua per la goccia Due di qua e due di là La goccia pendente Ago e filo uso il filo Miyuki E allora Ho già incastonato A peyote con le delica I rivoli Ricordatevi si parte con 36 perline Ok? Delica Usciamo da una perlina centrale Qui Andiamo a prendere Due C'è Diego che sta giocando a fare lo youtuber Andiamo a prendere due delica Ed entriamo nella delica successiva Quella sempre centrale ovviamente Ok Eccoci qua Ora prendiamo una 15 Ed entriamo sempre nella delica centrale successiva Calermo Torino Non so cosa stai guardando Ok E ripetiamo questi due passaggi alternati fino alla fine Bene Finito questo giro Usciamo dalla prima delica della coppia Andiamo a prendere altre due delica E non dobbiamo far altro che lavorare a derringbone Quindi con due delica Entriamo nella seconda delica della coppia Poi se riusciamo passiamo anche nella 15 Ed usciamo dalla prima della coppia dopo Tirate E andiamo a ripetere il passaggio fino alla fine Benissimo Allora finito il giro Usciamo dalla prima delica Di una nuova coppia Prendiamo di nuovo due delica Ed entriamo nella delica dopo Solo in quella delica Ok Vado a prendere due 11.0 Ed entro nella prima delica vicina Ma solo quella La prima della coppia Scusate chi è Eccoci Finito anche questo passaggio Usciamo sempre dalla prima delica della coppia appena inserita Siamo a tre coppie vedete Inseriamo ancora una coppia di delica Usciamo dalla seconda delica Ok Ora andiamo a prendere una 11 2 super duo Una 11 Ed entriamo Dov'è il filo? Ed entriamo nella prima delica successiva Ok Mi sono incartato Ok E ripetete per tutto il giro E ripetete per tutto il giro Non preoccupatevi se rimane un po' sballato Diciamo Perché poi col prossimo giro raddrizziamo tutto Usciamo ancora dalla prima delica della coppia Prendiamo una 11 Entriamo nella seconda delica Entriamo nella seconda delica E poi dobbiamo entrare anche nelle due super duo Se riuscite tutti in un solo colpo In modo di passare poi anche da Aiuto Dov'è qua? È tutto incastrato Aiuto Va bene In modo da passare anche qua nella prima delica E ripetere il passaggio per tutto il giro Allora Usciamo dalla 11 0 appena inserita Prendiamo una nuova 11 Ed entriamo nella prima super duo Prendiamo un'altra 11 Ed entriamo nella seconda super duo Prendiamo un'altra 11 Ed entriamo nella 11 di punta dopo E ripetiamo questo inserimento fino alla fine Ok Quasi alla fine Usciamo dalla prima 11 dopo le super duo Prendiamo due delica Ed entriamo nella 11 successiva E ripetiamo il passaggio per tutto il giro Ora dobbiamo fare il cappietto dell'orecchino Usciamo dalla 11 0 tra due super duo Prendiamo 4 11 0 Ed entriamo nella stessa perlina Formando il cappietto Ripassiamo ora passate tra le perline fino ad uscire da questa super duo Opposta per andare a inserire la goccia Ok ultima cosa Tutti gli scleri per la gente che vive in casa Comunque usciamo dalla super duo Prendiamo 3 11 0 Una 8 0 La goccia La goccia Prendiamo tutto giù Prendiamo un'altra Un 8 0 Scusate Giù Giù Rientriamo nella goccia Nella 8 0 Nella 8 0 L'orecchino è terminato Ora io vado a ripassare Fissare bene il tutto Monto la monachella E noi ci vediamo alla prossima Ciao Ciao